Ciao ragazzi sono Sette, benvenuti a un nuovo video finalmente ancora una volta su Vikings Oggi voglio parlare sia a voi di alcune cose che sono state rilasciate alcune diciamo dichiarazioni e altre diciamo teorie che possono darci una visione più coerente di quello che potrebbe essere il finale effettivamente dell'ultima stagione di Vikings, la stagione 6B Per tutti coloro, e mi state veramente facendo in tantissimi questa domanda che chiedono quando uscirà la 6B, è molto probabilmente che uscirà alla fine del 2020 o novembre o dicembre del 2020, poiché è sempre così appunto nella stagione si ripercorre ogni novembre oppure ogni dicembre o a volte anche ogni gennaio nel corso del suo tempo è sempre così, ogni anno ne esce una nuova stagione oppure una mezza stagione è così che fanno, quindi sono più che sicuro che uscirà a novembre o dicembre del 2020 Iniziamo con i personaggi che avete chiesto più di tutti di parlarne, di che mi chiedete, che cosa ne so Floki e Rollo, partiamo da Rollo Signori, Rollo, su parola di Clive Standell o Clive Standell, non mi ricordo comunque l'attore che fa Rollo ha espressamente dichiarato che non sarebbe intervenuto all'interno di Vikings se Rollo non avesse avuto una conclusione degna di un senso come a dire che anche lui nel personaggio diciamo aveva trovato che la sua fine non aveva avuto molto senso quindi penso che, diciamo, forse potrebbe esserci il ritorno di Rollo solamente per una frase enigmatico ovviamente che Yirst ha detto quando è stato intervistato sul fatto se Rollo potesse tornare Yirst ha risposto sì e no che cazzo vuol dire Yirst? il sì e no comunque questo sì e no mi potrebbe presupporre il fatto che magari, e questa è una mia teoria il fatto che Rollo potrebbe effettivamente tornare in tempo per salvare Bjorn da morte certa dopo la spadata di Ivar e potrebbe effettivamente salvarlo ma morire nel tentativo di appunto salvare Bjorn ottenendo anche una sorta di redenzione del suo personaggio che era stato completamente negato al mondo vichingo e che si era appunto venduto per diventare il duca di Normandia quindi penso che se magari, diciamo, se Rollo potesse tornare lo vedrei bene in questa situazione tra l'altro sul sì e no appunto di Yirst penso che se ritorna muore subito è quella la mia idea per quanto riguarda invece Gustav Skarsgård l'attore che interpreta Floki non ha lasciato dichiarazioni importanti sono il fatto che Floki è ormai un uomo che diciamo non crede più assolutamente in nulla però ha detto che Floki è quindi Floki è ancora vivo ragazzi perché ha detto che Floki è non che Floki era quindi insomma è una prova che è ancora vivo e che appunto sta compiendo un viaggio un viaggio per dove non si sa molto probabilmente questa è una teoria abbastanza coerente lui è già arrivato nella Golden Land dall'America e diciamo quando Ubbe e gli altri arriveranno appunto nella Golden Land penso ci sarà Floki ad accoglierli non lo so e convivere nel villaggio è diventato il loro sciamano non lo so è diventato il loro veggente se vogliamo perché molti avevano questa idea che Floki potesse diventare un veggente e un veggente forse non per il popolo vichingo ma per un altro popolo questo potrebbe essere un'idea molto interessante il fatto che Floki abbia totalmente lasciato alle sue spalle il suo passato da vichingo e anche il suo conflitto col cristianesimo per diventare qualcosa di nuovo è un'idea che mi piace veramente molto sarà vero? non sarà vero? lo vedremo solamente quando la serie appunto uscirà ma parlando dei personaggi appunto più come dire insomma prominenti della serie io vorrei dire qualcosa su Bjorn avete secondo me ragione sul fatto che Bjorn sia ancora vivo non solo perché appunto viene inquadrato su quella foto che ormai gira ovunque sul cavallo e tra l'altro la manica del vestito che impugna la spada effettivamente la manica di Bjorn ho controllato ed effettivamente la sua manica ma anche per la profezia del Vegente il Vegente che parla sempre per Enigmi e che ha predetto a Bjorn che il suo nome sarebbe stato ancora più grande di quello di Ragnar per il momento Bjorn non è più grande di Ragnar anzi ha addirittura annunciato alla corona dei re di Norvegia e no quindi non è più grande di Ragnar quindi necessariamente Bjorn dovrebbe essere ancora vivo per ottenere qualcosa ancora di più dalla vita che al momento non ha quindi sono abbastanza fiducioso su questo aspetto a meno che Isto non abbia sfancurato tutta quanta la profezia e abbia voluto far morire Bjorn proprio lì ma ne dubito fortemente sarebbe un oltraggio troppo grande per i fan e io personalmente mi incazzerei di brutto ma Seth cos'è che ti fa pensare che Bjorn sia effettivamente ancora vivo? un'altra cosa il fatto che il Vegente quando Bjorn era sulla montagna con la spada del re Bjorn gli aveva chiesto ma tutto questo che sto vedendo io è reale? il Vegente non aveva risposto aveva stato semplicemente nel senso che il confine tra quello che Bjorn percepisce come reale e quello che percepisce come immaginario è molto labile Bjorn ha qualche problemino in testa devo dire la verità se vede il Vegente ci chiacchierà ma il fatto è che il Vegente è stato visto solamente con Vizzer che era totalmente ubriaco e drogato mentre Bjorn riesce comunque a vedere il Vegente quindi Bjorn potrebbe avere effettivamente un legame con la spiritualità di Vikings riesce a vedere le ombre forse come tra l'altro quella del Vegente e se gli chiede appunto tutto questo che sto vedendo è reale e lui gli fa forse un fondo a questo c'è c'è e penso proprio che o non è stato colpito da Ivar effettivamente è stato colpito da qualcun altro oppure se è stato colpito non morirà perché magari l'ha colpito in un punto diverso da quello che ci hanno fatto vedere è molto confusionaria anche la battaglia finale quindi vorrei vederci chiaro ma il fatto è che questo va sempre molto affascinato nel senso tutto quello che sto vedendo è reale è vero o no e non gli risponde ed è questo è lo che mi fa pensare per quanto invece riguarda Oleg il profeta sembra che il suo destino possa essere effettivamente distrutto per questo suo attacco alla Scandinavia in quanto è presente all'interno del suo regno il complotto del fratello Dir per rovesciarlo ho detto tra l'altro da Ivar e Ivar non è uno stupido sa bene cosa Oleg potrebbe pensare di lui quindi secondo me si diciamo convincerà che lui non può lui è talmente potente che adesso non lo può fermare più nessuno nonostante appunto la strategia per invadere la Scandinavia sia venuta da Ivar e Igor che appunto si beerà del suo potere e probabilmente non si accorgerà che in patria il Dir gli ha preso già la città di Kiev potrebbe succedere che Oleg tornando indietro insieme ad Ivar si accorga che Dir abbia già preso la città di Kiev e che sia in quel momento che magari Ivar sferra la sua ultima carta cioè infilzare trapassare da parte a parte come ha fatto con Bjorn il buon Oleg per dare il potere effettivamente al principino Igor così da avere un nuovo alleato magari per la guerra contro Alfred non sarebbe un posto totalmente da scartare e parlando di Ivar sappiamo che ci sarà una guerra in Irlanda l'abbiamo visto dal appunto dal promo in cui chiede a tutti quanti di unirsi insieme a lui per affrontare Alfred in Inghilterra o in Irlanda non ho ben capito esattamente dove vanno inizialmente però penso sia in Irlanda e appunto ci sarà uno scontro finale e di questo lo sono grato a Ist tra Alfred e Ivar perché non può essere altrimenti ragazzi perché la conclusione diciamo ideale del conflitto tra cristianesimo e paganesimo o se vogliamo anche della risoluzione dell'amicizia tra Atelstan e Ragnar che è da sempre venuta sia dal primo episodio questo confronto al mondo cristiano e al mondo pagano in conflitto e credo che sia una fine adeguata non so come si svilupperà questa battaglia finale so solo che ci saranno un casino di uomini su parola di vista è veramente la battaglia più grande di Vikings quindi insomma davvero tanti tanti uomini e Vikings ha dimostrato che le battaglie le sa fare e anche bene a volte male a volte bene quindi sono davvero fiducioso per questo scontro finale non aspetto altro Seth Seth ma Witzerk Witzerk la profezia aveva detto che lui avrebbe fatto qualcosa di straordinario ma che avrebbe perso tutto quanto e ragazzi il fatto è che cioè la profezia non era sulla Ghertha capite perché ha realizzato effettivamente qualcosa che nessun altro è riuscito a fare ossia uccidere la Ghertha ma non ha perso praticamente niente perché era già mezzo moribondo mezzo distrutto mezzo completamente colpito nell'anima quindi non cioè non è questa la conclusione della sua profezia io credo effettivamente spero che lui voglia in qualche modo guadagnarsi ancora la fiducia di Ivar per poi colpirlo magari alle spalle riuscendo dove nessuno è mai riuscito ossia colpire Ivar a uccidere Ivar magari e diciamo finendo magari ucciso ma riuscendo a portare a termine la sua diciamo la sua vendetta questo renderebbe effettivamente un personaggio intelligente e che effettivamente ha un senso perché se non succede così ragazzi io Vizzerk veramente io non gli ho trovato un senso per tutta la serie e non li troverò ancora farò un tributo a fine stagione con Vizzerk l'inutile non so e infine Ube signori Ube che in teoria doveva diventare un re di un di un regno adesso va nella Golden Land nell'America quindi forse potrebbe diventare il re lì ne dubito fortemente in quanto diciamo gli indios non hanno un re che da che io mi ricordi quindi non lo so probabilmente dopo la parentesi della Golden Land ritornerà in patria forse per reclamare la sua corona in Danimarca che appunto gli spetta diritto avendo ucciso il re Frodo forse ma io credo che Ube abbia ancora molto da mostrare come personaggio e c'è anche quello scontro strano con quelle genti arabe mediterranee non ho capito bene di che genti si trattino perché hanno questi turbanti queste scimitarre quindi mi fa presumere che siano del Medio Oriente e non capisco perché perché l'America è dall'altra parte però insomma c'è molto di cui discutere su Ube ma dovremmo aspettare ancora un po' per avere più maggiori dettagli e 7 la donna della morte la donna della morte quella figura strana con gli occhi neri e i capelli strani è molto la regina dei morti io non voglio pensare che succeda quello che può succedere ossia che la regina resusciti Bjorn perché se succede questo tipo a Zorai in Game of Thrones che non c'è stato per resuscitare Bjorn e veramente mi alzo e che cosa cazzo ci sto a fare ancora qui non ha senso commentare questo sarebbe la tamarrata più grande che Vikings ha fatto perché non c'è l'elemento magico c'è l'elemento spirituale quello sì in Vikings ma non l'elemento magico quello non esiste se lo metti così alla cazzo di cane ist perdona ma ti devo tirare un puno in faccia quindi questo è tutto ragazzi spero di essere stato abbastanza esplicativo nelle mie appunto diciamo esposizioni se avete ancora dubbi scrivete qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e che pensate scrivetemi anche voi se sapete qualcosa riguardo al destino probabile dei personaggi all'interno del finale di Vikings e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi